Nel corso degli anni la mia cassetta degli attrezzi si è arricchita di strumenti che mai avrei immaginato di portare su un set. In questo video, che sicuramente diventerà il primo di una serie, ve ne mostro alcuni. Iniziamo con un tester di prese. Questo strumento serve per misurare il voltaggio erogato da una presa. È quindi molto utile già a partire dai location scouting anche solo per verificare che le prese presenti in location siano effettivamente attive. Inoltre non solo misura la tensione in uscita dalla presa, ma anche la sua costanza. Da quando un convertitore 380-220 mi ha bruciato due lampade a 2000 watt nel giro di neanche 5 minuti, perché ogni tanto lasciava passare 300V, questo strumento mi accompagna su ogni set. Essendo dotato di una sola spina a modello sciuco, mi porto sempre dietro anche una serie di adattatori, per essere certo di poterle inserire nei diversi tipi di prese che potrei trovare in location. Gran parte delle strumentazioni che utilizziamo sui set hanno viti e filettature in passo Whitworth da un quarto o tre ottavi di pollice. Per questo motivo mi porto sempre dietro maschi e filiere per poterle riparare. Anche questa è un'abitudine che ho sviluppato in seguito a un incidente. Su un set sul quale stavamo girando con quattro camere, un operatore spannò la filettatura sotto una delle camere al punto che non riuscivamo più ad avvitarci la piastra per connetterla al tre piedi. Non fu un dramma, riuscimmo comunque a concludere la giornata girando con le altre tre camere, ma nell'occasione immaginai cosa sarebbe successo se la stessa cosa fosse accaduta su un set a camera singola. E da allora mi porto sempre dietro maschi e filiere in passo Whitworth da un quarto e tre ottavi di pollice. Oltre a una piccola boccetta d'olio, perché maschiare e filettare a secco non è mai una buona idea. Il terzo e ultimo strumento del quale vi parlo in questo video è sicuramente il più banale ma utilissimo. Sui set capita molto spesso di trovarsi a lavorare al buio, soprattutto quando si tratta di un'esterna notte. Muoversi con una torcia a mano è un problema, perché lascia libera una mano sola oppure volendo lavorare con entrambe le mani si è costretti a mettersi la torcia in bocca o sotto una scella che è scomodissima oltre che molto poco elegante. Inoltre è matematico che una torcia a mano a un certo punto uno la spenga per risparmiare batteria, la appoggi da qualche parte al buio e non la ritrovi più. La soluzione mi fu suggerita da un operatore in vista di una notturna in un bosco e non so quante volte durante quelle riprese ho pensato che questo strumento fosse davvero preziosissimo. Una torcia a led da testa, orientabile. Lascia libera entrambe le mani, si orienta con estrema semplicità e non c'è motivo di abbandonarla da qualche parte quando non si usa.